Questo è uno sparring condizionato che sta nell'allenare l'allievo o comunque la persona o il direttante o il professionista nel fargli vedere come schivare i colpi e come bloccarli e comunque come attaccare l'avversario da davanti. Adesso con lui ci stiamo allenando in questo a livello proprio base. Una simulazione di una specie di ingoso, una ripresa che si farebbe di un'allievo oltre, un'allievo oltre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.